La proposta dell'opposizione per risolvere l'emergenza ITET, padre Tannoye. Stasera andremo ad illustrare la proposta dei consiglieri di opposizione, una proposta che trae origine da quelle che sono state principalmente le istanze fatte in sede di Consiglio Comunale, sia dalla rappresentante dell'istituto, dalla preside, sia dai genitori e dai ragazzi presenti. In quella sede è stato stabilito che si sarebbe creata una unità di crisi per tutti insieme fronteggiare l'emergenza dell'ITET, cosa che poi in realtà non è stata fatta. Quindi da parte nostra abbiamo tentato di dare il nostro contributo, contributo che riteniamo che sia certamente superiore in termini pratici, in termini proprio di risposta alle richieste dell'utenza rispetto a quello che è stato poi individuato dall'amministrazione. Amministrazione che in questa sede non ci ha tenuto in considerazione, non ha tenuto in considerazione l'apporto che l'opposizione poteva dare alla proposta. Cosa non vi va della soluzione scelta dell'amministrazione? Non ci va della soluzione scelta innanzitutto la parte logistica. Sia gli spazi, a dire del sindaco, si riusciranno a recuperare 19 ambienti, sia la disposizione su quattro piani di un istituto scolastico che non ha nessun senso. Quindi proprio partendo da queste problematiche si è pensato quale poteva essere una soluzione ottimale per la nuova sede. Perché di questo dobbiamo parlare. Perché non abbiamo un termine certo quando arriveremo ad ottenere la sede attuale ristrutturata. Per cui non abbiamo pensato a una soluzione di emergenza, ma a una soluzione di emergenza a medio-lungo termine, in modo da dare la possibilità dello sviluppo didattico scolastico in maniera ampia e non trovarci poi di fronte il prossimo anno scolastico a un decremento delle iscrizioni. E quindi da questo punto di vista poi è partita la nostra idea di provare a trovare degli ambienti, quali in questo caso quelli del primo piano dell'ex convento dei dominicani, che consentisse appunto di sviluppare su un unico piano, recuperando 22 aule, 4 ambienti per presidenza, segreteria e altri ambienti connessi e anche dei laboratori. Questo secondo noi rende molto più funzionale il tutto e ripeto, una soluzione che sicuramente non crea grosse problematiche anche ai fini delle nuove iscrizioni. Ritenere che possa essere presa in considerazione anche alla luce dei costi differenti tra la sistemazione in via Santa Barbara e questa vostra proposta? In realtà c'è stato da parte nostra anche un'analisi dei costi, quindi abbiamo esattamente mantenuto e rispettato quello che è già ciò che è stato stanziato dalla città metropolitana per la proposta in via Santa Barbara, per cui non ci saranno assolutamente costi aggiuntivi rispetto a quelli già previsti, anzi questo tipo di proposta riteniamo possa essere realizzabile in tempi molto più brevi oltre che, ripeto, dando agli studenti e alle famiglie quello che era stato richiesto e quindi un orario antimeridiano delle lezioni, tutte le lezioni nello stesso plesso, i laboratori, la possibilità di poter anche garantire per il futuro che effettivamente si possa dare un'impronta seria e precisa a quello che l'istituto fino ad ora rappresentato, perché in sede di Consiglio Comunale quello che soprattutto i genitori lamentavano oltre che i docenti era l'incertezza a cui si andava incontro per le nuove iscrizioni e cioè la possibilità che i nuovi iscritti potessero rivolgere la loro formazione poi altrove, su Terlizio, su Molfetta, in virtù dell'incertezza del plesso. Quindi una soluzione del genere che va a garantire tutte le aule nello stesso posto, l'orario antimeridiano, tutti i laboratori, le presidenze, gli uffici, tutto ciò che occorre nello stesso luogo, credo che sia una soluzione ottimale che non comprendiamo come mai non sia stata presa in considerazione. Per cui l'auspicio è che venga effettivamente considerata la nostra proposta. Sembra che ci sia una distanza tra maggioranza e opposizione, come se ne viene fuori da questa situazione che di certo non aiuta nessuno? Non se ne viene fuori facilmente perché la maggioranza, anche dall'intervento del sindaco ieri sera in Consiglio Comunale, continua a puntare tutto su degli interventi in emergenza. Invece noi riteniamo che oltre agli interventi in emergenza, a quale sicuramente ci sono, tipo la neve, la chiusura dell'ITC in maniera repentina, però dopo di che si deve fare una programmazione. Quindi questo secondo noi, l'intervento effettuato a Via Santa Barbara è un ulteriore intervento tampone che comunque non risolve i problemi, che consentirà e dovrà per forza di cose entrare in un ulteriore intervento tampone se il tutto come ristrutturazione della vecchia sede non si definisse entro la fine dell'anno scolastico, mentre la nostra proposta è una proposta veramente al di fuori di qualsiasi strumentalizzazione politica. È una proposta che va verso la città, verso la città che vuol tenere la sede dell'ITC a Ruvo e riteniamo che questa sia veramente una proposta valida che consentirebbe anche l'ipotetico slittamento della ristrutturazione della vecchia sede anche all'anno scolastico 2018-2019. Altrimenti ci sarebbe poi da affrontare un ulteriore anno scolastico, come ha detto la consigliera Rutigliani, con i doppi turni e con problematiche magari di un'ulteriore piccola sede di staccata perché i 19 ambienti sicuramente non coprono tutte le esigenze dell'attuale ITC. Anche dal punto di vista logistico, per quanto riguarda gli spazi di comunità, chiamiamoli così, chiaramente nella sede di via Santa Barbara sono inesistenti, fra l'altro lo sviluppo su quattro piani rende anche pericoloso e anche l'ingresso stesso della struttura è in una zona molto frequentata dal punto di vista del traffico, al contrario invece della nostra proposta che anche da questo punto di vista è intervenuta, in quanto ha previsto un ingresso singolo, che non interferisce con nessun'altra situazione, con dei marciapiedi, degli spazi esterni molto larghi all'esterno e con tutto il corridoio che conosciamo bene dell'ex convento dei nomi micrani che è molto ampio e quindi con possibilità anche di poter, diciamo, della sosta degli studenti nei cambi orari.